Buongiorno, abbiamo già avuto la possibilità di fare una chiacchierata sui contenuti del suo libro in passato che consiglio a tutti di leggere, facendo anche una bella intervista che allegheremo all'intervista di oggi. In questa occasione però vogliamo approfondire alcuni temi che lei conosce molto bene e che sono di estrema attualità, anzi le volevo chiedere di toglierci subito il dente, di cavarci il dente, è comparsa una delle tante agenzie che riportavano a galla, parlando di trattativa Stato-mafia, le intercettazioni di Riina in carcere con il capo mafia lorusso. Riina diceva Martelli si è preso i nostri voti e dietro c'è la messa, anzi dicendola un po' alla siciliana, dietro c'è la messa, c'è la mise e poi ha aggiunto che se fosse stato per lui l'avrebbe ammuccata, cioè hanno tradotto l'avrebbe ammazzata. Ecco lei come la legge questa affermazione di Riina? Perché è chiaro che alcuni sottintendono che c'era una sorta di patto per prendere i voti della mafia che lei non ha rispettato. Dottor, questa storia dura da 27 anni, cioè dalle elezioni dell'87 perché subito dopo si aprirono le urne e che si vide il bel risultato del Partito Socialista e chiarisco subito che il bel risultato non era soltanto Palermo, ma in tutta Italia, perché il 1987 è l'anno in cui i socialisti toccano il loro record elettorale, Craxi ha ben governato, è al governo Presidente del Consiglio da 4 anni, io sono il segretario di fatto del partito, sono stato il primo firmatario, il primo promotore del referendum sulla giustizia giusta. Ed è possibile che sia nato da qui l'equivoco e cioè che qualche mafioso abbia voluto o non abbia saputo fare a meno di equivocare scambiando la difesa dei diritti che noi sostenevamo con quel referendum sulla responsabilità civile dei magistrati che sbagliano, con la tutela dei delitti che è tutt'altra faccenda, evidentemente. Affrono fatte le indagini già nell'immediatezza e risultò del tutto evidente che io non ho mai avuto nessun contatto, né personale né indiretto, io feci una campagna non solo contro la mafia, ma dicendo ai mafiosi, siccome nell'aria c'era un clima un po' equivoco, che aveva sempre riguardato per la verità altri partiti, che quella volta coinvolse anche i socialisti, chiarì che noi i voti della mafia non solo non li solicitavamo, ma li rispingevamo perché sarebbero state la più grave offesa a tutti i socialisti, i sindacalisti, i policci trucidati dalla mafia. E per la verità anche la leggenda che la mafia volesse dare un segnale alla democrazia cristiana e che quindi spostò dei voti della democrazia cristiana partito socialista non ha nessun fondamento perché a DC in quell'anno a Palermo i voti li guadagnò. Perché oggi riciccia questa storia? Ma intanto forse perché c'è il divertimento di qualcuno di farla, che se ne continui a parlare e poi io credo anche perché effettivamente la seconda parte della frase di Reina è certamente vera, è vero il fatto che io gliel'ho messo dietro perché ho fatto le leggi antimafia più dure della storia e quindi se avevano investito su di me hanno fatto il peggior affare della loro vita. Ed è vero anche che hanno tentato di assassinarmi e l'hanno fatto in tre almeno episodi, che sono del resto tutti pubblici, sia sparando contro la mia scorta, che li inseguì e ne fermò due mafiosi di Alcamo, due fratelli, uno pregiudicato per associazione mafiosa e l'altro anche per omicidio. Poi ci fu un secondo tentativo presso l'abitazione in cui stavo allora e poi un terzo che doveva essere quello più micidiale nel corso di un comizio che dovevo tenere a Messina che per fortuna casualmente venne rinviato all'ultimo minuto. Diceva Falcone che la mafia prima ti isola, poi ti denigra e alla fine ti ammazza. Come hanno tentato prima di ammazzarmi poi di isolarmi e certamente continuano a denigrarmi. Non mi sorprende e devo dire la verità in qualche modo mi fa onore. Senta, in sostanza quest'uscita di Riina di Matteo, il giudice di Matteo, la sta leggendo come se sia un messaggio in stile mafioso. Lei pensa ci possa essere qualcosa di vero e poi le volevo chiedere, secondo lei Riina è ancora in grado di determinare, di condizionare la malavità organizzata? Questo non lo so, non sono aggiornato, non sono un investigatore che sia presente sul campo oggi e dunque non sono in grado di rispondere a questa domanda. Immagino che una qualche influenza Riina ancora ce l'abbia, per lo meno su qualcuno. Mi stupisce e in un certo senso mi indigna che il boss dei boss che è detenuto al regime di 41 bis possa continuare a mandare segnali di questa natura all'esterno. In particolare quelli che si riferiscono ai magistrati palermitani oggi, in qualche modo minacciandoli esplicitamente. Questo non dovrebbe essere consentito. Il 41 bis non è un carcere di punizione, è un carcere di prevenzione per evitare che i boss mafiosi detenuti in carcere spadroneggiano in carcere sugli altri detenuti, intimidiscono i secondini e minacciano i giudici e dunque applichano il 41 bis e non consentono Riina di lanciare messaggi di questa natura. Mi dica la verità, ma lei ha paura e aggiungo di Matteo dovrebbe avere paura di quello che si sta dicendo. No, non deve avere paura o se ce l'ha deve vincere con il coraggio e sapendo che può godere del massimo di tutele possibili e immaginabili. Passiamo a un'altra tematica. La prima Repubblica di cui lei fece parte fu travolta da Tangentopoli. Lei pensa che la questione morale sia ancora un problema in Italia o è una cosa superata? Io so che la situazione è tutt'altro che migliorata. La prima Repubblica giustamente fu travolta dall'operazione Mani Pulite, partita da Milano e poi si diffuse in tante altre procure. Nell'arco di un anno, l'ho scritto, raccontato nel mio libro, furono indagati 35 mila italiani per reati connessi al finanziamento illecito ai partiti politici, 35 mila indagati in un anno, 3500 arrestati, 500 parlamentari indagati, parlamentari sono mille, quindi un deputato senatore su due, uno su due, il 50%, venne messo sotto indagini. Decine di ex ministri e otto ex presidenti del Consiglio. Quella è stata la più colossale operazione di polizia giudiziaria mai fatta nella storia d'Italia, più grave e concentrata per intensità rispetto alle politiche antiterrorismo e rispetto alle politiche antimafia. Mi pare veramente qualcosa di clamoroso. Tuttavia, fosse servito a risolvere o migliorare la situazione morale della politica, uno potrebbe anche dire che è un sacrificio grave, ma è stato utile. Le cose non stanno così, perché vent'anni dopo noi siamo precipitati dal 39esimo posto al 169esimo nell'indice di gravità della corruzione pubblica. Siamo più corrotti secondo le statistiche internazionali di paesi come l'Uganda, di paesi come lo Zimbabwe. Mi pare un dato clamoroso. Del resto, lo cito nell'ultima riga del mio libro, a riconoscerlo non sono io che sono stato ministro della giustizia e anche imputato in quelle vicende, ma lo dice chi fu il protagonista della pubblica accusa, e cioè quel procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Bordelli, l'inflessibile guida del pool Mani Pulite, il quale nel ventennale di quella vicenda, 1992-93, 2012-2013, ha pubblicato la seguente dichiarazione. Chiedo scusa agli italiani, non valeva la pena di buttare il mondo precedente per cadere in quello attuale. Dunque persino chi fu autore e guida di quell'operazione che doveva essere di grande moralizzazione riconosce il disastro che fu causato da quell'operazione e che la situazione è enormemente peggiorata rispetto allora. Perché? Perché la corruzione politica di quell'epoca, che è politica ma era anche degli imprenditori, degli amministratori, dei burocrati di Stato, quella forma di corruzione è un problema di sistema, non è soltanto un problema individuale e dunque soltanto con delle riforme, delle procedure che regolano le gare d'appalto, controlli spediti e urgenti e immediati su tutte le operazioni di elargizione del pubblico denaro possono frenare o fermare la corruzione, non il colpire alcuni partiti sì, alcuni uomini politici sì e altri uomini politici no e altri partiti no. Lo riconosce chi fu allora responsabile di quell'azione. Grazie di essere stato con noi. Grazie a tutti.